Ciao a tutti, eccoci qua con una nuova video recensione. Parliamo di un film che è da poco uscito in un video, che è Life, non è il trepassare il limite, film di fantascienza, uscito al cinema questo inverno, a inizio marzo, se non ricordo male. Un film che sinceramente è passato abbastanza in sordina, ma devo dire che l'avevo trovato, un film molto interessante, un film di fantascienza, quindi film di genere, ma fatto con grandi mezzi, una bella idea ben sviluppata da Daniele Espinosa, che è un regista svedese di origine cinena, ha il suo terzo film, dopo Child 44, che era il suo penultimo film uscito, se non sbaglio, nel 2015, e Safe House, che è il suo esordio alla regia. Sinceramente vi sento di consigliare questo film, anzitutto per il cast veramente interessante, composto da Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds e Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson l'aveva vista di recente nell'ultimo Mission Impossible, ma l'ho trovato interessante perché, ok, parte da un'idea che non è originalissima, ma che viene sviluppata con grande personalità. La storia, qual è la storia? È di un'astronave che sta tornando sulla Terra dopo essere stata su Marte. Qua, su Marte, aveva riuscito a recuperare un campione di vita, che però non vuole portare sulla Terra, lo vuole studiare appunto nello spazio, su questa astronave, anzi, su questa, scusate, stazione spaziale, che ha orbitato nella Terra, per capire che forma di vita è, che forma di vita aliena è, se è una forma di vita pericolosa, amica, o comunque per studiarla. Ovviamente, tra l'altro, la cosa interessante di questo film è l'atmosfera assolutamente claustrofobica dell'astronave e di questi cunicoli molto stretti che ti fanno sentire proprio dentro all'astronave. La storia, poi, è abbastanza prevedibile, ma devo dire che Daniele Spinosa riesce a dargli il giusto ritmo e la struttura molto bene, tant'è che i 90, poco più di 90 minuti, 95 minuti, 100 minuti, che dura il film, ti volano e rimani incollato a vedere cosa succede, e soprattutto come questo embrione alieno si evolve e cosa ovviamente succederà. Il film, appunto, ho detto che non è particolarmente originale, però sviluppa bene l'idea e principalmente prende come ispirazione un film uscito pochi anni fa che è Gravity per l'ambientazione, sia esterna, anzi, soprattutto per quella esterna, perché come sappiamo Gravity si sviluppa tutto in esterno, tutto nello spazio, e ovviamente l'amatissimo Ridley Scott con il suo Alien, anche se questa creatura aliena non è proprio come quella di Alien e il fatto che gli stessi astronauti vogliono studiare questa creatura diciamo che è uno sviluppo differente da come succedeva in Alien. Detto ciò, il film, appunto, è un film di genere assolutamente avvincente che riesce a creare l'atmosfera da thrilling fantascientifico. È un film, appunto, che era uscito al cinema e che è stato poco in sala, anzi, non ho una grande distribuzione, però devo dire la verità che consiglio calorosamente di vederlo. Da un punto di vista visivo è altrettanto interessante il film anche nel raffigurare questa creatura aliena che, appunto, vittima dopo vittima, perché ovviamente verranno poco per volta uccisi gli astronauti presenti dentro e che devono giocare come a caccia col topo con questo alieno che, appunto, cresce a dismisura e soprattutto ha una caratteristica molto importante che oltre ad essere particolarmente forte è anche dotato di altissima intelligenza per cui riesce ad adattarsi alle situazioni ed è molto furbo, a volte anche più furbo degli stessi umani. Con il film direi che, appunto, è tutto, nel senso che è un film che ho rivisto molto volentieri. Per quanto riguarda gli extra non abbondano, nel senso che sono più o meno una mezz'oretta, 40 minuti di contenuti speciali nei quali troviamo quelli più interessanti è quello relativo allo studio dell'assenza di gravità ovvero come, da un punto di vista produttivo, hanno realizzato l'assenza di gravità in questo modo, hanno ricostruito praticamente a grandezza naturale la strada spaziale e nelle parti superiori o comunque dove gli attori dovevano passare o muoversi così sono stati creati dei buchi per cui gli attori venivano legati con delle imbragature e venivano mossi come delle marionette fondamentalmente e quindi si dà la sensazione di essere in assenza di gravità. È una clip che dura 7-8 minuti e che spiega, appunto, questo artificio che è un artificio fisico ed è tutto il film dotato di effetti speciali fisici. C'è ovviamente la CGI ma la CGI non viene usata in maniera così massiccia se non per dare ovviamente vita all'alieno. Un altro extra che c'è nel film si chiama The Art of Calvin Calvin è il nome dell'alieno e viene spiegato fondamentalmente come questo alieno viene sviluppato scientificamente cioè non viene mostrato particolarmente come è stato realizzato da un punto di vista di effettistica effetti speciali e CGI ma quanto da un punto di vista scientifico cioè quali sono state le fonti per creare questo alieno e soprattutto farlo risultare credibile e reale perché il film punta a quello punta a essere un film più scientifico che fantascientifico cioè quello che vedi sullo schermo o in tv ti deve dare una sensazione di credibilità e secondo me il film ci riesce molto molto bene in tal senso un altro contenuto extra è il terrore claustrofobico è una clip che si chiama terrore claustrofobico ovvero in questa clip anche questa che dura 7-8 minuti si spiega un po' come la navicella è stata costruita si ricollega alla prima clip al primo contenuto extra che vi avevo citato cioè sul discorso dell'assenza di gravità come si realizza fisicamente l'assenza di gravità e in più si parla dell'atmosfera del film dell'aspetto thrilling realistico che il regista Daniele Spinosa voleva dare al film anche questo è una clip abbastanza diciamo non lunghissima però comunque appunto spiega questo argomento altro contenuto speciale invece molto più stringato è i diari degli astronauti ovvero hanno realizzato delle piccole clip proprio i personaggi all'interno dell'astronauta dell'astronave durante il quale si raccontano raccontano un po' la propria vita ma sono pochi minuti di diari altro contenuto extra ovviamente sono le scene tagliate dove non c'è una scena particolarmente importante da segnare sono tutti piccoli clip che non aggiungono di più a quello che si vede nel film che personalmente lo reputo un gran bel film di fantascienza un gran bel film di genere che appunto l'ho trovato godibilissimo fatto bene è andato benino anche al box office e appunto se vi piace la fantascienza io sinceramente vi consiglio live in blu-ray e basta per questa video recensione è tutto alla prossima ciao a tutti